Intro Benvenuti in un nuovo video su TV Games E oggi siamo tornati su un video di nuovo su Call of Duty Black Ops Ovviamente, ovviamente Ma oggi non faremo come l'altra volta che abbiamo fatto la sfida con i bot O la sfida con i fantastici La sfida della corsa In realtà, sì, adesso vi spiego Andremo a giocare un'altra modalità Prima di entrare nella modalità multigiocatore vera e propria Andiamo a giocare la modalità zombie Perché, da quello che so, è fighissima Piccolo problema Se sei da solo la modalità zombie è un po' difficile E diciamo, sì, è abbastanza complicata Quindi sono un po' scarso Che cosa significa che sono un po' scarso? Che moriremo molto presto Visto che il video diventerebbe troppo corto, secondo me Faremo la modalità zombie finché posso Poi farò la terza gara del percorso Quello là Figo, 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 figo Allora, dico solo una cosa In ogni caso sono scarsissimo Questo cosa significa? Molto semplicemente Che non durerò 80 round Ma riuscirò a malapena arrivare a 5 Forse Come deco sempre Io non sono giocatore di Call of Duty migliore al mondo Io ci gioco perché è divertente Non è il gioco che mi piace di più Però, diciamo che questo Call of Duty Black Ops 3 Mi sta prendendo parecchio Ho iniziato la campagna Off camera Non ve la faccio vedere perché tanto è inutile Nel senso Non perché è inutile la campagna Ma nel senso che Non penso che mi interessi E devo dire che è una figata assurda Come prima missione C'è un putiferio da fare Quindi potete ben capire che figata è In ogni caso voglio portarvi questa modalità Perché so che su YouTube è famosa E soprattutto perché Non tanto per YouTube Ma perché voglio Sturarmi tutto il gioco A vedere un po' come funziona Tutto quello che vi è dietro La modalità zombie ha una sola mappa Per il momento Penso che ne aggiungeranno poi Spero non tramite DLC Perché se no li pesto E io devo aspettare la intro Non so perché Ma con la intro di zombie Ha un problema di rendering del video Praticamente L'audio mi va avanti Però il video si incastra Vi faccio vedere subito Vedi che va un po' a scattoni Soprattutto adesso Vedete? Che si blocca Ragga un po' Adesso gli mette le manette No adesso sta andando bene Sto stronzo di un gioco però Vedete? Vedete che si blocca Non so perché Forse il mio computer Non riesce a leggere questo video Vedete che si è bloccato Adesso senti di prima Il morto E poi lo fa lui Adesso mi va Soprattutto l'altro video Praticamente va avanti Più velocemente l'audio Che il video Penso che sia un problema Nella mia scala video Però vabbè Su dettaglio Benvenuti Nella battaglia Zombie E Prima cosa che faccio È andare a prendere una pistola Più decente Di questa qua Perché questa qua Fa cagare il cazzo In ogni caso Abbiamo una pistolona Questa qua È molto buona Un po' altino il volume Sinceramente Però voi lo sentite Abbastanza basso Quindi non c'è problema Vieni qua Troia De uno zombie E chiudi il portellone Grazie mille Eccolo Guarda se lo schivo Proprio Cazzo Che cazzo era Vabbè Allora Adesso i zombie Sono facili da uccidere Poi diventano Delle merde Pazzesche Per il semplice motivo Che Iniziano a correre E io non sono in grado Di giocare Quando iniziano a correre Quindi bene Essenzialmente Però finchè faccio headshot Così È interessante Mi ha dato sopravvivi? No ancora no Vuol dire che esiste Che c'è ancora uno zombie Che rompe le balle Oh sì No Vuol dire che Ho già finito la Prima orda Sì esatto Ho fatto la prima orda Non mi sono neanche accorto Quindi Prima di fare cagate Vado per di qua Così Mi libero un po' La zona Perché se no qua Ritrovarsi 8000 cose Non è una bella cosa C'è la nuova modalità bestia Che vi faccio vedere dopo Perché adesso Anche no Non mi interessa Vieni qua Headshot Headshot Devo stare attento Perché è sbuccando Tutte le parti Ma muori Trocola Orco Vedete Sono schifosi Perché non li senti Sono delle merde Pazzesche Non li senti proprio Chiudi qua Qua Stare qua è buono Perché arrivano tutti da qua Te li becchi tutti insieme Sei a posto E hai la porta qua Al massimo Buono Perfetto Sopravvivi Prendo le munizioni E cambiamo zona Assolutamente Pronto No forse l'ho già prese Lo stavo bene No ok No non ci capisco Aspettate che adesso Crepo subito Vi faccio vedere Immediatamente che crepo Qua escono da tutte Le cazzo di parti Qua c'è uno Poi Escono dall'acqua Poi escono Dalle zone qua Qua c'è una pistola Da comprare Ma non la compro Che tanto non mi interessa Ciao Bello Cazzo cazzo Ho visto l'ombra Ho detto che cazzo In realtà era la mia E' sistemata Da quello che so A mo' di campagna Narco Vaffanculo Troia di Di uno Fanculo no Perché non cambia più l'arma Che cambia sta arma Che cazzo Cosa apposta Adesso sono più resistenti Caboom Mamma mia Adesso non parlate più Allora sopra Cosa mi ha dato Massima prontezza Dura tre round Completi Mili più veloce Ah ok Interessante Vedete che queste Corrono Puttane E poi essendo Da solo Se crepo Nessuno mi rianima E questo è un gran bel problema Sarebbe più alla Guarda che stronzi Che corrono questi Questo qua è a colpo singolo Non mi piace come arma Però è una buona Quindi si può dire Che va anche bene Fanculo Vedete Troppo difficile da solo Mamma mia E' veramente veramente difficile Sono arrivato al massimo A 4 su tutte le mie partite Ok sarò anche scarso Però Devo ancora capire bene Dove sono le armi migliori Dove fare tutto Come funziona Tutto Volevo farvi vedere Anche il modello tra bestia Ma lo faremo La prossima volta Se volete vedere Un altro round Di questo Dovete scrivere assolutamente Qua sotto Un modo Per convincere Final A prendere questo gioco Così giochiamo insieme Almeno in due Perché zombie In primo luogo È difficilissimo Da soli Come avete notato Poi ci sono quelli Che sanno farlo anche Da soli Però ecco Io non sono uno di questi Questa è l'intro finale Che non capisco Che cosa serve Posso saltarla È passata di livello A caso Non ho capito Perché dovrei passare Di livello Comunque Continuiamo E andiamo a fare Visto che ci Abbiamo fatto appena Sette minuti Questo è tanto Per vedere il gioco Niente di partite ufficiali Cagate varie Difatti Sono i primi video Per farvi vedere un po' In ogni caso La modalità zombie Un po' Non è che mi stimoli tanto Nel senso Che mi di atto Questo coso Ma forse giocare In multiplayer Da molto molto di più Però devo dire che Non mi dispiace Come modalità È un po' particolare Però non mi dispiace Preferivo se mettevano Una campagna Tipo come avevano detto Ma no Non l'hanno messa Comunque Andiamo subito A giocare Molti giocatori E voglio farmi Corsa libera Dobbiamo fare la terza Che l'altra volta Non l'abbiamo fatto Che è Infected Modità avanzata Sarà bello divertente Perché sarà molto Molto difficile Io sono scarso Scarso E in ogni caso Ci divertiremo parecchio Inizia corsa Immediatamente E iniziamo fra Sette secondi Perché sette è il numero massimo Di ogni cosa Non è vero È partito dal nove Però Sono dettagli Dai Sono dettagli Ah Mi taglio tutto Ecco qua Corsa libera Corsa libera Ma va Infected Ma io non ho capito Perché infected Ah Forse devo sbattere il tempo Perché sennò divento Uno zombie Corsa libera No boh Si chiamerà così La mappa Lol Bella ambientazione Però Davvero Eh È questo Come me lo spieghi Bastardo Ricarica Ok Sali 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 Vai 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 Perfetto No Non correre Vai 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 Sì Perfetto Qua c'è la pistola Quindi bisogna sparare Vai Vai Questa cosa della barra Su questa cosa È devastante Ti fa veramente capire Che non hai più Come una volta Il Il salto infinito Praticamente come su Call of Duty Advance Ma Ce l'hai proprio limitato Al minimo Eh no Vabbè Ma cos'è questa storia No Questi qua sono Maledetti Cinque muri Sono veramente Devastanti Merda Non riesco A saltare bene Su I muri Vabbè Questa qua Era proprio Vabbè E mi salto Qua Grande 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 Mi muovo anche Ma in realtà Perché dovrei muovermi Vabbè Non mi vedete Con la testa tagliata In realtà Fanculo però Fanculo Fanculo Difficilissimo Questa No Muro di merda Posso dire Muro di merda Però le mappe Però le mappe Sono bellissime Guardate che cosa Che cosa assurda Bellissimo Ok che è la simulazione Comunque Vai Sì 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 Vai Sta buggando Vai Vai Aia Vai 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 No 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 Impegnati Sto cazzo Di più Difficilissimo Impegnati Di più Mi sto impegnando Non è che troppo Oh Vai 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 Soltanto Mi arrivo sempre più in alto E non è proprio Dove sei Dove è andato Dove è andato Sulla luna è andato Che cazzo Nessuna luna Mi dicono Vai 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 E vabbè Lo chiamavano Piedi scivolosi Lo chiamavano Porca puttana Ho l'armatura rotta Bisogna far garanzia Qua Soddisfatti Rimborsati Rimborsati Proprio Oh No Dove vai Dove vai Schifoso Lezzo proprio Eccolo qua Perfetto Mi gusta Mucio De più Mi gusta Mucio De più Vai Di qua Vai Di qua Merda Ho usato il salto Forse Dovevo risparmiarlo No dai Si è ricaricato Vai 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 Su Saltone Che cosa Con il fucile A pompa Addirittura Vai 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 Checkpoint Superato No Merda Ho tutti Sti salti Idioti Vai Acqua 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 Corri Corri Siamo arrivati No Devo salire Devo salire Vai 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 Dio Dove cazzo devo andare Acqua Qua Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Troppo forti Troppo forti Troppo Troppo forti Non ci capisco Una sega Comunque Devo metterlo No Da cazzo Eh vabbè Eh vabbè Questa qua Non ho capito Da cacchio Devo andare Però Vai Ma vai Su Sono già Dieci Venute Vai Su Figlio No Non posso Non posso No No Vaffan Bredo Bredolo Vaffan Bredolo Non so che cazzo Significa Bredolo Però Perché 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 Ricaricati Ricaricati Non guardiamo il tempo Guardiamo A farlo bene Poi il tempo Lo miglioreremo Quanto avremo voglia Giusto Vai E che cazzeruola Eh vabbè Come faccio Ricaricati Eh sì Vai su Ricaricati Vai su Oh Vabbè La fine era qua Vaffanculo Dieci Minuti E tredici Secondi E 553 Secondi Ma vabbè Sono dettagli Che cazzo Di merda Difficilissima Questa Io Non dico niente Per la prossima Ma mi sa che farò Un episodio unico Per la prossima Mappa Perché Porca Miseria Che cosa Assurda Mamma mia Porca Madò Ma io voglio Magari vedere Come No ci sono solo io Non mi fa vedere A blackout Non ho fatto un Ghiaz No non mi fa vedere Quelli del Online Quindi Ancora tanti Non l'han fatto Magari Non lo fanno Perché dicono Io voglio giocare A multiplayer Perché voglio bestemmiare Contra le altre persone Comunque Per questo Video è tutto Vi dico Che c'era un bel mi piace Se vi piace Queste modalità Farò sicuramente Multiplayer Ma non subito Perché voglio vedere Il gioco in sé E non il multiplayer Come ho fatto di solito Anche perché Il multiplayer Sembra la stessa menata Poi dicono Eh ma è sempre la stessa cosa Poi inseriscono nuove modalità E non le giocano neanche Quindi Questo è quello che un po' Diciamo odio Di Call of Duty Comunque Noi ci vediamo al prossimo Vi ricordo di lasciare un bel mi piace Iscrivetevi al canale E vabbè Naturalmente Dal Jay Sempre la storia da solfa Berta Live in video Oh